buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio amanda buon pomeriggio benvenuti alla prima lezione di volo allora cosa aspettate mettetevi alla sinistra della vostra scopa avanti su fate presto stendete la mano destra sulla scopa e dite su 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 consentimento su 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 stai zitto eri dunque una volta afferrata la scopa voglio che ci montiate e aggraffatevi bene non vorrete scivolare a terra quando soffio nel fischietto con i piedi vi darete una spinta forte tenete la scopa ben salda sollevatevi un momento inclinatevi leggermente in avanti e ritoccate terra al mio fischio 3 2 signor 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 con esattezza torna giù immediatamente signor 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 aiuto mandami a passare avanti, alzati oh oh oh, oh santo cielo, il polso si è rotto poverino, su, coraggio, in piedi dovete tenere tutti i piedi saldamente a terra mentre accompagno il signor Pacioc in infermeria intesi? se vedo una sola scopa per aria la monta si ritroverà espulso da Hogwarts prima che riesca a dire Quidditch avete visto che faccia? se avesse stretto questa si sarebbe ricordato di cadere sulle chiappone dammi qua, Malfoy no, la metterò dove Pacioc dovrà cercarsela che ne dici del tetto? cosa c'è, botte? pensi di non arrivarci? Harry, non se ne parla Madame Boomb l'ha vietato e per di più non sai nemmeno volare che razza di idiota dammela, Malfoy io ti butto giù da quella scopa ah, è così facciamo un modo tuo, allora ti butto giù da qualcosa Sei stato grande, Annie Mavoloso, Annie Bravissimo, Annie Harry Potter? Seguimi